Il nuovo Breff BC Duo Active igienizza il BC ed odora l'ambiente. Solo quando sono pulito sono fresco e profumato. Il professionista per la tua casa. Nessuno ferma a tue gambe levante. Con Matisse Hirskin, protezione e benessere nella stagione fredda. Che abbonamento T-Nit hai? A-D-S-L, velocità massima e vai col business. Free! E quando voglio? Zic, cambio abbonamento. T-Nit, generazione internet. Visita il sito o chiama il numero verde. A-D-S-L, da 12,95 euro al mese. Riva inclusa. Scusa, c'è poco. Ogni anno in Italia più di 120.000 persone sono vittime di un attacco cardiaco. Ogni giorno lavoriamo per salvarne il più possibile. Per le strade con il motosoccorso veloce, con la telecardiologia, nelle scuole, negli ospedali e con un centro di ascolto attivo mediante numero verde. Anche tu puoi salvare una vita. Anche un solo erro è importante. Sostieni pronto cuore.